Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Oggi 31 ottobre anche a Arezzo si prepara la notte di Halloween non solo in tema di appuntamenti a dobbi e feste ma anche controlli. In prima linea ancora una volta la Polizia Municipale. I vigili sono infatti pronti ad intensificare il proprio servizio con il pattugliamento del territorio. Controlli straordinari che sono già iniziati questa mattina quando il nucleo sicurezza urbana della Municipale è intervenuto nell'area del Colle del Pionta dove in orario scolastico un gruppo di giovani stava consumando bevande alcoliche e superalcoliche. Per tutti loro sono scattati gli accertamenti prima di essere affidati ai rispettivi familiari. Gli agenti della Municipale stanno anche procedendo alla verifica dell'eventuale responsabilità dei dipendenti di un noto supermercato del centro cittadino dove sono stati acquistati gli alcolici. In Valdarno invece un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito nella giardino di un'abitazione. E' successo questa mattina attorno alle 11.20 a Terra Nuova Bracciolini lungo la strada Provinciale 4. Ferito un uomo di 23 anni trasportato al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia in codice 2. E restiamo in Valdarno dopo due mesi dal crollo dell'azzolaio del controsoffitto in un'aula della Marconi di San Giovanni Valdarno. E dopo l'inagibilità e la chiusura del plesso di 20 aule e 15 laboratori con evidenti disagi per 22 classi. Ancora manca l'individuazione di 7 locali per accogliere studenti e studentesse. I genitori hanno così preso carta e penna per scrivere una lettera aperta alle istituzioni chiedendo adesso risposte certe e concrete. Tra le aule inagibili anche una dedicata ai 71 studenti che si avvalgono della legge 104. Ad oggi 31 ottobre scrivono nella lettera dopo quasi due mesi dal crollo la provincia non ha espresso un parere ufficiale sulla convenzione richiesta né tantomeno ufficializzato la data di inizio ai lavori per il repristino del plesso Marconi. I genitori dunque chiedono che tutti gli studenti possano tornare al più presto in aula e poter utilizzare anche i laboratori fondamentali. Parliamo adesso di turismo. Mancano ancora settimane alla Natale ma già ad Arezzo si registra sold out nelle strutture recettive. Vediamo il servizio di Greta Settimelli. Con un mese di settembre che ha sfiorato il 90% dei posti letti occupati nell'Aretino con un più 11% dallo scorso anno e un ottobre comunque con dati molto buoni, il turismo ad Arezzo si appresta ad andare in overbooking nel periodo natalizio. Con un mese di anticipo per il ponte dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata e primo grande ponte festivo di questo inverno, i posti letto nel circuito hotel dell'Aretino sono già occupati oltre il 75%. Ottime le previsioni anche per novembre. Il ponte dell'Immacolata, quello dell'8 dicembre, abbiamo già ad oggi sul venduto, quindi sul confermato, un tasso di occupazione che va dal 75% al 90%, il che significa che, essendo un mese prima, si può facilmente stimare di arrivare probabilmente a un overbooking e quindi a spargere prenotazioni nel giro di 40 chilometri. Ma va comunque benino anche in tutti gli altri fine settimana da novembre in poi. Da non dimenticare che a novembre c'è anche il Forum Risk, che è un appuntamento estremamente importante e quindi tutta quella settimana lì sarà contrassegnata dal tutto esaurito. Un tasso di occupazione particolarmente elevato, rilevato proprio nelle città d'arte e tra queste appunto Arezzo. Una città che comunque si sta abituando piano piano a questo tipo di flussi turistici. Rimane il tarlo della mancanza, ad esempio, dei bagni pubblici. Sì, il problema dei bagni pubblici, almeno per come è percepito nella gravità del problema, è solo a retino. In realtà io ho girato molte parti del mondo e i bagni sono sempre andati negli ristoranti, negli e-bag, nelle stazioni. Ad Arezzo i bagni pubblici ci sono. Certo non si può fare un bagno per ogni turista. Quindi sì, è chiaro che poi è evidente che là dove ci sono dei momenti di picchi di folla, il bagno ci può essere la fila. Però io non la metterei così drammatica come viene rappresentata. Mi sembra che ci sia una narrazione leggermente esagerata sul tema. Sicuramente quando sono previste tante persone che si spostano in un determinato territorio, peraltro non enorme, è chiaro che parcheggi, viabilità, ritiro dei rifiuti, bisogna capire tutto quello che sono le necessità di un folto numero di persone che si aggirano alla fine in un quadranto abbastanza ristretto, che è quello del centro storico di Arezzo. Il numero di persone non è tale da poter lanciare nessun tipo di allarme, anche perché comunque si tratta di picchi che sono per pochissimi giorni l'anno. Quindi sono per pochissimi giorni l'anno, quindi speriamo che vada tutto bene. Poi tutto il perfettibile, ovviamente come tutte le azioni umane, sono tutte perfettibili e possono essere aumentate. Proseguono i controlli degli ispettori ambientali di Sei Toscana e scattano le multe anche in provincia di Arezzo. 110 multe in soli 10 mesi. È questo il bilancio delle attività degli ispettori di Sei Toscana in provincia di Arezzo, una figura che il gestore del servizio integrato dei rifiuti ha messo a disposizione dei comuni del territorio con il compito di informare e educare i cittadini attività economiche per una corretta gestione dei propri rifiuti e al contempo segnalare sanzionale eventuali comportamenti scorretti. Un'attività potenziata e implementata anche con l'installazione di dispositivi di videosorveglianza di ultima generazione nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili all'abbandono di rifiuti. Ad oggi il servizio è già operativo in 30 comuni della Toscana meridionale, con più di 60 videocamere trafisse mobili, oltre 300 postazioni di raccolta controllate e con una costante e continua attività di monitoraggio da parte degli ispettori sul territorio. Nei primi 10 mesi dell'anno sono stati svolti complessivamente quasi 300 turni di ispezione sul territorio e analizzate migliaia di ore di videoregistrazioni con oltre 3.000 illeciti che sono stati trasmessi agli organi di controllo per la successiva emissione di sanzioni ai trasgressori. In provincia di Arezzo sono quattro i comuni che hanno attivato il servizio di ispezione ambientale. Nel territorio sono operativi cinque dispositivi di videosorveglianza di ultima generazione trafissi e mobili che assieme all'attività promossa dagli ispettori ambientali hanno permesso di rilevare numerosi illeciti relativi all'abbandono e al conferimento errato di rifiuti. Restiamo in Valdarno. Nel prossimo Consiglio Comunale di San Giovanni infatti il consigliere del Movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi presenterà un'interrogazione per conoscere la situazione degli appartamenti di Arezzo Casa SPA nella frazione di Centinale in Via Melani. Una decisione che arriva alla termine di un incontro che lo stesso Pierazzi ha avuto nei giorni scorsi con gli abitanti dello stabile che denunciano lo stato di disagio e abbandono che raccontano essersi creato nel tempo. Io stesso ho appurato la situazione nelle abitazioni dove le infiltrazioni di acqua hanno danneggiato muri mobili al loro interno sottolinea il consigliere. Il giardino sottostante è diventato una foresta come possiamo vedere anche in queste foto che si è aggiunto alla disagio dell'assenza di acqua calda riscaldamento rende tutto difficile a ridosso dei primi freddi di stagione. E sempre a San Giovanni Valdarno proprio in questi giorni è stato inaugurato anche il tratto sangiovannese della ciclopista dell'Arno. Taglio del nastro in sella alla bici a San Giovanni Valdarno che diventa così città sempre più bike friendly. È stato infatti inaugurato il tratto della ciclopista dell'Arno che interessa la città di Masaccio. Oltre tre chilometri dove pedalare in tutta sicurezza dal confine con il comune di Figline Incisa fino a quello con Montevarchi sempre costeggiando il fiume. Per noi è un obiettivo importante raggiunto e naturalmente in continuità con la consigliatura precedente che dà il senso proprio anche dell'importanza della mobilità sostenibile per il nostro comune ma anche della valorizzazione del fiume Arno che in questi quattro anni è stata fortemente incentivata e che poi lo sarà ulteriormente grazie anche al progetto di rigenerazione urbana tra natura e cultura. Il percorso inaugurato fa parte del più ampio progetto ciclopista dell'Arno e sentiero della bonifica finanziato dalla regione toscana. È una grande soddisfazione vedere che quella idea che all'inizio sembrava veramente un po' un'utopia della realizzazione della ciclovia dell'Arno che partendo da Stia in Casentino arriva fino a Marina di Pisa si potesse realizzare. Vedere invece che lotto dopo lotto questi lavori si concretizzano e danno la possibilità alle comunità locali, agli amanti della bicicletta ma anche alle famiglie che poi vanno a piedi per fare una passeggiata a lungo l'Arno di vederle realizzate è una grande soddisfazione. L'intervento dal valore di quasi un milione di euro ha previsto anche due passerelle di 24 e 26 metri sui torrenti Vacchereccia e San Cipriano è un'area di sosta attrezzata nei pressi del Ponte Ipazia. È un tratto in piano quindi sarà adatto per famiglie, anziani, giovani gente che andrà a piedi, gente che andrà in bicicletta e forse c'è anche un minimo di alleggerimento del traffico urbano perché qualcuno sceglierà di andare a lavorare in bicicletta e di andare a scuola in bicicletta. L'Asla Toscana Sud-Est ha una nuova direttrice sanitaria e la dottoressa Assunta De Luca che inizia oggi il suo incarico. De Luca succede a Roberto Turrillazzi attualmente direttore sanitario facente funzione a sua volta subentrato alla dottoressa Simona Dei. La dottoressa De Luca, laureata in medicina e chirurgia nel 1994 alla Federico II di Napoli ha frequentato la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università La Sapienza di Roma. Particolarmente significativa è l'esperienza maturata presso l'Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio e nell'Agenzia regionale dell'emergenza in tema di emergenza territoriale ed ospedaliera. E' sempre l'Asla ha firmato un accordo con il Comune di Arezzo per la destinazione dell'edificio dell'ex scuola elementare di Rigutino. L'operazione prevede da parte del Comune l'applicazione di un canone dimezzato per acevolare la realizzazione dei servizi e da parte dell'Asla l'investimento necessario alla trasformazione dell'immobile in un presidio socio-sanitario e l'impegno di portare a termine i lavori entro i prossimi 12 mesi. Un altro accordo è stato invece siglato ieri tra Aciarezzo e Misericordia che permetterà ai rispettivi soci di accedere a una serie di vantaggi e agevolazioni. Le due istituzioni cittadine uniscono quindi le forze nell'integrazione di tante attività di grande interesse pubblico e sociale. Nello specifico i soci Aci potranno accedere ad alcune prestazioni della Misericordia con tariffe vantaggiose e parallelamente i soci della Misericordia avranno accesso a formule di associazione all'automobile club dedicate con la possibilità di fruire dei servizi erogati da Aci. E adesso una storia a quattro zampe quattro cuccioli di canne erano stati abbandonati dentro uno scatolone. Il gesto che purtroppo si ripete a volte questi cani sono stati abbandonati fuori e erano molto piccoli oltretutto. Erano stati trovati dentro uno scatolone abbandonati poco dopo la nascita. Adesso questi quattro cuccioli sono pronti per essere adottati. La cosa bella è stata che questi cani un pastore si è offerto ci ha detto che aveva delle femmine in allattamento e abbiamo fatto la prova di attaccarli a queste mamme cagne, a queste balie cagne. Sono così cresciuti e ora sono arrivati in canile svezzati quindi naturalmente da una mamma cane e sono adottabili, sono, vedete, di taglia medio-grande. Non è il cane d'appartamento, ha bisogno di passeggiate, di stare fuori e possono essere anche ottimi cani da guardia. Attende ancora una famiglia, anche Negan, Meticcio Border Collie, arrivato in canile dopo aver affrontato momenti difficili. I suoi ultimi proprietari avevano dovuto rinunciare a lui e il cane aveva così perso la fiducia negli esseri umani. Si era veramente molto chiuso. Anche nelle sgambate usciva solo per fare la pipì e si ripiazzava davanti alla porta per rientrare in box. Dopo un percorso in canile a fianco di educatori e volontari adesso per lui si cerca un'adozione consapevole. Perché comunque sia un cane con delle caratteristiche particolari, un carattere forte, un guardiano, quindi non è proprio un cane per tutti. Però loro sono riusciti a dedicargli tanto tempo, lui si è aperto e è diventato bravo. La cultura, la circola artistico di Arezzo, la personale del regista e pittore Clemca. È un andare a ricercare il nostro passato, i nostri antenati, i nostri istinti primordiali che ci servono a ritrovare la nostra parte più autentica. Una magica fusione di colori, forme e simboli. La bellezza discreta del latavismo immostra al circolo artistico di Arezzo una personale del regista e pittore Clemca. Clemens Kefenheim in arte Clemca è un artista veramente interessante. Lui è un regista che all'attivo 78 film ha collaborato con i più grandi registi del mondo. ma poi negli ultimi anni ha sentito questa urgenza, esigenza di riprendere la pittura che lui aveva coltivato da giovane ma che poi aveva parte tenuto ferma per portare avanti invece il percorso di regista. Ma la cosa bella della sua arte è che tutto quel background da regista ritorna nella pittura, nelle sue tele. Le opere vengono create utilizzando una complessa e originale tecnica di ingrandimento. Come nel cinemascope si usava anche nei western fare dei primi piani, stringere il campo sul soggetto e inquadrare dei particolari così anche questi quadri che noi vediamo sono come dei primi piani cinematografici che poi vengono ristretti in un campo ancora più ristretto dei particolari e questi particolari poi vengono amplificati negli altri quadri. Sarà sempre il circolo artistico ad ospitare un evento speciale una collaterale alla mostra dal titolo La pittura incontra la musica in programma domenica 5 novembre. Con noi del trio Opera Viva, con me al pianoforte, Silvia Martinelli, soprano e Fabio Taruschio al flauto che presenteremo un bel programma fra musica da camera e anche musical e l'artista Clemens Kajfenheim che eseguirà delle performance e dei dipinti dal vivo sul momento ispirandosi dalla nostra musica. Passiamo alla pagina dello sport, al calcio. ieri vittoria in zona Cesarini per l'Arezzo contro il Lagubbio tre punti fondamentali anche grazie a un paio di spinte della buona sorte. Gli Amaranto hanno vinto al comunale grazie a un tiro cross di Guccione che carambola in fondo al sacco al minuto 88esimo. Per la prima volta in stagione poi l'Arezzo è rimasta porta inviolata facendo così un basso avanti in classifica. Sentiamo le parole di mister Indiani. È un vittore importantissimo, un vittore importantissimo da tutti i punti di vista perché sicuramente non è stata la nostra migliore prestazione e ce l'abbiamo fatta una figlia. Siamo contenti e andiamo avanti. E come dicevo prima, sono state altre gare che meritavamo molto di più e non lo abbiamo raccolto. Oggi meritavamo meglio e ne abbiamo raccolto. Io credo più sulle espulsioni perché dopo il rigore quella va buona la partita più o meno è andata avanti e cresce come aveva iniziato il secondo tempo. Io credo più dopo le espulsioni. Anche se è successo gravamente immediato, non lo so. Ecco però io dico sempre a miei non mi piace rimanere in dieci non è uno che offende l'arbitro, non è una cosa così. Secondo noi siamo di nessuna munizione, ci stiamo. Il primo si offende l'arbitro è colpa sua. Turno infrasettimanale per l'AMBC Servizi. Mercoledì arriva al Palasporta Estra il Castelfiorentino. Vediamo il servizio. Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta di La Spezia che mercoledì 1 novembre alle 18 l'AMBC Servizi Arezza ospiterà al Palasporta Estra alla BC Manetti Castelfiorentino. Un classico di queste ultime stagioni che si ripropone anche in Serie B. Nella scorsa stagione, chiusa con la promozione di entrambe le squadre, Arezzo e Castelfiorentino avevano mantenuto il fattore campo giudicandosi una partita a testa. Miglior realizzatore di Castelfiorentino è il playmaker Andrea Belli con oltre 16 punti realizzati a partita. Le sue triple sicuramente saranno uno degli obiettivi principali della difesa dell'AMBC Servizi. Castelfiorentino è ancora senza vittorie in campionato e si presenterà ad Arezzo con una gran voglia di riscatto dopo aver perso in volata il derby con l'Etrusca San Mignato. In Casasba invece obiettivi puntati sulla fase difensiva dopo le difficoltà nel limitare le bocche da fuoco dello Spezia la scorsa domenica. Servirà così la determinazione e l'aggressività della partita con la Virtus Siena per cercare di conquistare un risultato positivo che sarebbe molto importante anche in chiave classifica. Pioggia di medaglie per il Taekwondo Aretino al Toscani Open 5 ori, 10 argento e 7 bronzi insomma una pioggia di medaglie per il centro Taekwondo Arezzo e la NRG Taekwondo Arezzo al Toscani Open il campionato interregionale che ha colto al Palace Sport Mario D'Agata 109 società provenienti da 16 regioni per un totale di 1000 atleti in gara. Abbiamo avuto la giornata di sabato con l'alto livello abbiamo avuto le maggiori categorie in gara pronte per il prossimo campionato italiano che ci sarà tra tre settimane ad Ancona e quindi era un ottimo test per gli atleti di alto livello per confrontarsi prima del campionato italiano. Per il centro Taekwondo Arezzo e la due giorni si è conclusa con un ottimo bilancio tre medaglie d'oro conquistate sette d'argento e quattro di bronzo. È andata piuttosto bene tra la giornata di sabato e domenica i nostri ragazzi si sono dimostrati all'altezza di tale evento conquistando anche medaglie davvero ambite e davvero complesse dal punto di vista agonistico. Quindi diciamo che siamo molto soddisfatti del lavoro che io come tecnico ma anche dei ragazzi come atleti che stiamo svolgendo e questo Tuscani ci porterà magari speriamo che ci porti successo per le prossime gare future. Eccellente anche il bilancio per la NRG Taekwondo Arezzo che firma il suo Tuscani Open con due medaglie d'oro tre d'argento e tre di bronzo. Tanti ragazzi sono andati a podio chi non è arrivato ha comunque vinto almeno un incontro siamo soddisfatti di quanto stanno facendo. La platea è incredibile stiamo lavorando benissimo quindi ottimi segnali. Anna Battistini della ginnastica Petrarca invece è campionessa interregionale di ginnastica ritmica. L'atleta Arettina dopo aver vinto il titolo toscano alla palla ha gareggiato nella zona tecnica di Foligno nella categoria Junior 3 e ha eseguito un ottimo esercizio che va al suo primo posto in classifica con il conseguente accesso nella ristretta cerchia di ginnaste che potranno contendersi il tricolore ai campionati italiani di specialità in programma da giovedì 16 a domenica 19 novembre a Campobasso. Le soddisfazioni della ginnastica Petrarca sono arrivate anche con i sei atleti della sezione artistica maschile che sono scesi in pedana a fermo nella zona tecnica interregionale. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci. a Grazie a tutti.